ciao a tutti e benvenuti nel canale youtube della maschera riposta io mi chiamo mosè e in questo video vi voglio raccontare perché ho deciso di sostenere un progetto su kickstarter per un gioco da tavolo un gioco da tavolo di roll and write anzi di flip and write si tratta di on route ragazzi vi devo dire la verità quando ho visto le prime i primi teaser le prime i primi annunci i primi video realizzati in anteprima da altri content creator su questo gioco ho perso la ragione proprio cioè in senso positivo in senso sono impazzito appunto in senso positivo perché ragazzi è un gioco è un roll and write sottogenere di giochi da tavolo particolarmente in voga già da diversi anni ormai basa che tematizzato attorno al lavoro della guida turistica ragazzi che è il lavoro che è il lavoro che faccio io e c'è anche venezia fra le città allora fatemi spiegare un po come come funziona noi naturalmente non abbiamo nessun prototipo in mano abbiamo guardato video abbiamo letto la pagina della campagna quindi le informazioni che vediamo derivano da queste da queste fonti per così dire che abbiamo che abbiamo a nostra disposizione però appunto andatevi a vedere dei gameplay pubblicati da da dai content creator ricchi e famosi per esempio rado ha pubblicato un suo un suo gameplay appunto quindi potete vedere un po come funziona è un gioco che funziona in questo modo si chiama il sottotitolo è stroll and write adesso va molto di moda fare i roll and write in cui diciamo il il nome cioè non si chiamano non sono più roll and write ma sono sempre dei giochi di parole noi nomi quindi era roll and build per my city questo qua è stroll and write stroll naturalmente vuol dire passeggiare no quindi è perfetto per un gioco tematizzato appunto in questo in questo modo allora ha anche degli nemmeno a parte il tema questo questo è un gioco che avrei sostenuto a prescindere cioè anche proprio se fosse stato il più banale il più no solo per il tema l'avrei sostenuto anche perché non è particolarmente poi costoso oddio ha i progetti su kickstarter ultimamente non sono mai economici ok però ecco rispetto a certi progetti che costano centinaia di euro questo è abbastanza è abbastanza abbordabile diciamo ecco l'avrei sostenuto comunque a prescindere diciamo che però è anche ha anche delle frecce al suo arco dal punto di vista delle meccaniche come funziona questo gioco normalmente nei roll and write o flip and write o si lanciano dei dadi o si gira una carta da un mazzo non si rivela una carta e tutti i giocatori devono fare qualcosa sulla base dei risultati mostrati dai dadi o sulla base di quello che c'è sulla carta invece in questo gioco i giocatori hanno una mano di carte hanno la loro mappa della città tutti devono prendere la stessa mappa diciamo della stessa città nel gioco ci sono tante città vediamo vi dico subito quelle che sono presenti nel gioco base vediamo un po allora nel nella scatola base ci sono londra rio de janeiro il cairo hong kong new york e parigi ok quindi entra ogni mappa è diversa e anche delle diverse delle piccole regole diverse quindi per esempio c'è quella di londra con la metropolitana quella di new york che allarga il doppio e quella di hong kong che ha tipo le barche se non ricordo male vabbè insomma ci sono piccole regole e diverse disposizioni diciamo diverse forme che hanno queste mappe ok quindi ogni giocatore ha la sua mappa dove scrive con questi pennarelli cancellabili purtroppo si usano i pennarelli cancellabili io preferisco quando c'è il blocco e a ogni partita consumi un foglio mi piace molto di più che non quando ci sono i pennarelli cancellabili in questo caso ci sono i pennarelli cancellabili ok e cosa succede che in questo gioco ogni giocatore ha la sua mano di carte quindi non c'è semplicemente un no un mazzo comune da cui si rivelano carte no ogni giocatore ha una sua mano di carte ok già questa è una bella idea e cosa succede il giocatore di turno gioca una carta dal suo mazzo ok gli altri giocatori allora il giocatore nelle partite ha più di due giocatori il giocatore a destra e quello a sinistra quindi gli altri due se si gioca in tre fondamentalmente giocano in risposta alla carta giocata dal giocatore di turno scoperta giocano due carte coperte ok dopo che tutti hanno giocato le loro carte si rivelano tutte le carte ok e a quel punto bisogna il giocatore di turno sceglie una delle carte giocate dai suoi competitor ok perché fondamentalmente le carte hanno dei numeri incrociando i quali verrà un incrocio sugli assi cartesiani attorno ai quali è disegnata la mappa non so se mi sono spiegati più difficile da spiegare che da che da che da fare ok queste carte hanno un numero va bene quindi per esempio se io gioco 5 se io gioco la carta se io giocatore di turno gioco la carta col 5 e gli altri giocatori giocano uno il 3 uno il 2 poi io devo scegliere se fare l'incrocio fra il 5 e il 3 o fra il 5 e il 2 sulla mappa ok sulla base dell'incrocio che faccio piazzerò lì dei turisti i turisti sono rappresentati da simboli che sono sulle carte che sono state giocate e ci sono turisti di vario tipo quelli interessati allo shopping quelli interessati ai monumenti quelli interessati alle zaleare verdi ok è molto interessante anche tematicamente sta roba quindi distribuisco in giro questi turisti ok e poi devo sulla base dell'incrocio ok sulla base scusate non dell'incrocio sulla base della 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 delle delle location scritte sulle carte perché le carte hanno un numero un tipo di turisti e anche una qualche location di quella città perché ogni città il suo mazzo ok quindi c'è una location di quella città scritta su una delle carte quindi sulla base della location io devo tracciare delle righe sulla sulla mia plancia appunto con il mio pennarello cancellabile l'obiettivo è creare dei percorsi creare dei percorsi che soddisfino determinati obiettivi comuni che sono stati scelti in fase di setup ok e anche che contribuiscano a portare in giro i turisti che nel frattempo sono comparsi sulla plancia ok li voglio portare in giro per portarli dove vogliono andare quindi per esempio e quelli che vogliono vedere che sono interessati alla storia devo portarli ai monumenti o ai musei quelli che vogliono vedere i parchi devo portarli ai parchi quelli che vogliono fare shopping devo portarli nelle aree shopping devo portarli nei negozi ok e queste mappe sono piene di riferimenti a vere zone di queste città quindi è molto interessante sta roba ok allora prima non vi ho denominato Venezia perché Venezia è un'aggiunta speciale per il kickstarter quindi praticamente non si troverà in tale questo gioco andrà anche in retail ok e vediamo un po se trovo perché appunto vi è nella special edition eccola qua vengono aggiunti vediamo un po vengono aggiunti dov'è Las Vegas e Venezia ok e guardate qui c'è uno sneak peek alle mappe per esempio in Venezia c'è San Zanipolo il fondaco dei tedeschi palazzo Grimani il teatro Malibran piazza San Marco ovviamente palazzo Ducale i giardini reali palazzo Contarini la Fenice campo San Polo quindi anche della Candoro quindi anche zone non proprio conosciutissime cioè bello il teatro Malibran cioè una roba no che probabilmente anche no se siete mai stati a Venezia dubito che qualcuno sia si sia preoccupato della posizione o della presenza del teatro Malibran quindi è carina sta cosa no è molto carina poi ci sono i canali invece delle strade quindi delle regole particolari ovviamente anche per anche per 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 Venezia ragazzi mi sembra molto interessante io appunto ho un bias ve lo voglio dire perché visto il lavoro che faccio insomma chiaramente un gioco come questo attira la mia attenzione più di tanti altri più di quello che farebbe forse nel caso di qualcuno che fa un lavoro che fa un lavoro diverso dal mio no però mi sembra interessante anche a prescindere dal tema ecco il modo in cui funziona questo gioco cioè c'è molta strategia nello scegliere che carta giocare e anche nel fatto che gli altri devono scegliere che carta giocare quando non è il loro turno poi tutti giocano simultaneamente però il giocatore di turno decide no quindi c'è quasi un elemento di semi collaborazione nello scegliere le carte ok tutti abbiamo gli stessi obiettivi tutti stiamo giocando sulla stessa mappa ok però siccome difficilmente gli obiettivi comuni possono essere fatti tutti in contemporanea perché a volte confliggono l'uno con l'altro magari io ne sceglierò uno l'altro ne sceglierà l'altro e quindi avremo gli stessi obiettivi ma anche no cioè no è interessante questa cosa vedremo ovviamente poi come si svilupperà nel gioco vi do qualche informazione di carattere tecnico allora intanto nel momento in cui sto realizzando questo video il gioco non ha ancora raggiunto credo è la sua il suo obiettivo vediamo un po è arrivato a 10.627 euro su 13.842 ok quindi vabbè mancano ancora 20 giorni sempre nel momento adesso è il 29 febbraio ok al 29 febbraio anno bisestile questo 2024 e allora vi dico alcune cose un po appunto tecniche cioè vi parlo del costo vi parlo delle spese di spedizione allora vediamo un po andiamo a cercarle qui nella pagina della campagna allora il la special edition costa 48 dollari aspetta un attimo che vi che vi mostro allora 48 dollari per avere sia la versione base sia le aggiunte fondamentalmente fatte tramite campagna kickstarter quindi se volete las vegas e venezia dovete per forza prendere credo la special edition comunque adesso vi dico meglio la spedizione per la sia l'anno la retail version sia la special edition è per la unione europea da dai 12 ai 16 dollari ok quindi facciamo 16 48 dollari 58 60 siamo a 64 dollari a questo bisogna aggiungere il 20 22 quant'è 20 22 di iva ok quindi 64 6 40 altri 13 dollari diciamo stanta quasi 80 dollari per un roll and write non è proprio pochissimo ok comunque spedito e tassato siamo più o meno sugli 80 dollari allora dicono anche che c'è una possibilità che questi giochi siano disponibili allo spiel del 2024 prima che la versione kickstarter venga consigliata ai backer o nello stesso momento cercheremo di far sì che la che la che la edizione kickstarter arrivi prima ai backer di quando di di essen però non possiamo garantirlo vabbè lo dicono chiaramente ok vediamo la differenza di prezzo fra la versione retail dove si va ragazzi allora overview aspetta un attimo allora vediamo un po dove si dove sono ragazzi ora io la backer si sono backer manage allora vediamo un po 48 niente non mi fa vedere da nessuna parte non è possibile ragazzi non mi fa vedere da nessuna parte quali sono le altre hanno eccola qua 35 dollari per la retail version ok perfetto trovato e appunto per la special edition 48 48 per la special edition che oltre ad avere anche qualcosa in più rispetto a rispetto alla versione forse ha anche tipo un insert si ha un plastic tray invece quell'altra non ce l'ha ha un insert più bello ha delle carte del materiale più bello vabbè insomma oltre a queste due nuove città sono anche delle degli altri upgrade ok comunque ragazzi vi volevo rendere partecipe di questa di questa campagna sono molto molto curioso sono molto sono sempre entusiasta quando c'è quando c'è qualche gioco da tavolo tematizzato con cose che hanno a che fare con la con la mia col mio lavoro principale è una roba penso abbastanza normale ragazzi fatemi sapere cosa cosa ne pensate fatemi sapere se anche voi per caso avete deciso di partecipare a questa campagna di crowdfunding se vi piacciono i giochi roll and write recentemente abbiamo parlato di un gioco roll and write secondo me molto carino molto divertente si chiama my city roll and build vi lascio qua il link con il tutorial e l'esempio di gioco così potete darci un'occhiata se volete e vi invito a seguire tutti i nostri prossimi contenuti perché abbiamo tanto tanto nuovo materiale che vogliamo condividere con voi mosè dalla maschera riposta vi saluta e vi dà appuntamento ai prossimi video ciao ciao